Oh Devi partire in velocità Valeria, quello è quello che ti dicevo che tu vuoi alzare solo di braccia vai in posizione di bersaglio Gamberetto Giada, non si alza a caso Se vuoi fare male a Stanzani almeno alza bene Se vuoi fare male a Stanzani almeno alza bene Grazie Bravo Dario, sei un buon pezzo di merda Però così da lei Luca, lancia la fila di Eterna Che non ha problemi di velocità a lei Puoi nessuno? No, non ce la faccio a me non lo dici Va bene, sconsetta Ce la fa a Fesce che ce la metta delle tue gambe Non vedo come ce la faccio e non ce la faccio a te di Ocai Vai, trovami una scusa, ti fermo Ce la fa a Dario che è la metà della metà delle tue gambe invece Se ce la fa a Marco che non ha le gambe invece Poi allora vuoi sentire che non ce la faccio E invece ce l'ha fatta anche Marco Che le mancano entrambe le ginocchia Vai Bravo, 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 bravo Non attacca a me Luca, setta la parte Marco, non ti buttare in terra senza metterlo per ridere Io non sto arrivando No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, niente braccio Sì, no No, no Quella che ce la con la telegramera nuova No, no No, no No, no No Niente braccio